Flavio Briatore è uno delle personalità manageriali più argute d'Italia, con un patrimonio da capogiro. Conosciuto soprattutto come team manager della Formula 1 con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e a capo di uno dei massimi locali della Movida, il billionaire, in Sardegna e che da poco è approdato anche a Dubai. Da sempre Briatore è stato circondato di donne meravigliose e bellissime, tra le quali sono annoverate la top model Naomi Campbell, una relazione con Heidi Klum, anche lei modella e un flirt con l'israeliana Mora Natias. Nel suo cuore, però, a raggiungere il podio ed arrivare all'altare è stata la bellissima calabrese Elisabetta Gregoraci, con la quale Flavio Briatore ha formato la sua famiglia, con la nascita del piccolo Nathan Falco. Un matrimonio che si è concluso e che porta di nuovo il manager sulla piazza. Come il single più ambito del mondo ma avete mai visto dove vive, da solo, Flavio Briatore, da Flavio Briatore a Monte Carlo. Ecco la casa, il manager italiano vive da anni, ormai, a Monte Carlo e per lavoro fa da spola tra l'Italia e Dubai. Siete curiosi di vedere la casa dove, da single, trascorre i suoi momenti di relax, ecco aperte le porte della dimora monegasca extra lusso, dove primeggia sfarzo, eleganza e arte, tutto in uno stile francese del XVII secolo. Nella dimora, simbolo del business, Flavio Briatore vive momenti di relax, lontano dal mondo degli affari e attimi di felicità con la sua famiglia, in particolare con suo figlio Nathan Falco. In realtà, però ad arricchire questi attimi è anche Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie, che vive anche lei a Monte Carlo e spesso trascorre il suo tempo con l'ex marito Flavio Briatore, con cui ha un ottimo rapporto. Flavio Briatore, ovviamente, si è ritagliato un angolo di casa da destinare al suo studio privato e agli affari di lavoro, una parte che ha deciso di arredare secondo una linea moderna e minimal. La parte invece dedicata alla convivialità, ovvero la sala ricevimenti, mantiene uno stile prezioso, sfarzoso e classico, dove primeggia soprattutto il colore verde, sia per le pareti che per i tendaggi. Il verde, però, si mischia con eleganza anche al bianco e al caldo color nocciola, scelto dal manager per dare un tocco caloroso alla sua dimora e favorire il senso di accoglienza per i suoi ospiti. Nella casa extra lusso di Flavio Briatore, però, non manca una delle sue passioni principali, quella dell'arte moderna. I quadri d'autore di Briatore. L'arte primeggia nella casa monegasca di Flavio Briatore che addirittura possiede due opere di grande valore, un quadro di Botero, che il manager ha esposto nel suo studio, dietro alla scrivania, e l'altro di Mimmo Rotella.